Aspetta, aspetta, stai iniziando? Aspetta? No! No, vabbè ragazzi, il mio sogno, anzi, quello di mia nonna. Quello di mio padre! Siamo a Los Angeles, dove siamo? Sì, siamo a Los Angeles, Marco e Thorne! Io sono almeno la metà di sexy di Rich. Aspetta, aspetta! Startup Comedy Live! Domenica, 17 maggio, alle ore 21, in diretta a Facebook, sulla pagina di Startup Comedy.com Pedro, vuoi bere qualcosa? Bevi qualcosa! Io sono Thorne! Io Taylor, io Taylor prima della chirurgia plastica! Aspetta la fila di donne fuori da casa!